Il numero 15 è iniziato nel 1996, è il secondo anno che facciamo la finale a Desenzano, quindi per noi è un piacere. Quindi buona finale? Un bocca al lupo a tutte le ore. Il festival Io Canto in Emilia, la Sparagodonica sarà, una musica sarà, buonasera Gelo, allora. Un bocca al lupo a tutte le ore. Un bocca al lupo a tutte le ore. Un bocca al lupo a tutte le ore. Grazie a tutti.